21 allievi da 14 paesi diversi, tutti alla cittadella agraria di Todi per la seconda edizione dell'International Summer School in gestione e promozione sostenibile del territorio. Tema forte di quest'anno dalle parole ai fatti, perché la sostenibilità del territorio non sia solo uno slogan. Un'iniziativa promossa dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, dall'Istituto Agrario Ciuffeli di Todi, dall'associazione ex allievi Itas Todi, con il patrocinio della regione dell'Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Todi. La Summer School andrà avanti fino al 2 settembre. L'obiettivo, come hanno spiegato gli organizzatori, è migliorare il metodo di gestione e la promozione del territorio in modo da tutelare attraverso il monitoraggio costante, lo sviluppo, la buona qualità della vita e la protezione delle risorse ambientali, in particolare del paesaggio e della biodiversità. Grazie.